della teoria della relatività nasce da un'osservazione fatta molto tempo prima di Einstein. Il primo a intuire il principio di relatività è stato Galileo Galilei all'inizio del Seicento. Galileo diceva se mi trovo dentro la stiva di una nave e guardo un animale che si muove o un oggetto che cade non sono in grado soltanto con queste osservazioni di sapere se la nave è ferma oppure se si muove con velocità costante. In tutti e due i casi infatti gli animali e gli oggetti per me che li osservo si comportano nello stesso modo. Soltanto se guardo fuori dalla nave e ho un punto di riferimento esterno come la terraferma posso sapere se la nave è ferma o si muove. Insomma il punto di vista di chi sta fermo e quello di chi si muove purché a velocità costante sono ugualmente validi. Nessuno dei due osservatori si trova in una posizione privilegiata rispetto all'altro. Questo è in sostanza il principio di relatività di Galileo. Se stai fermo oppure se ti muovi purché a velocità costante vedrai avvenire nello stesso modo i fenomeni della natura. Che cosa ha fatto Einstein? Ha preso quest'idea e l'ha estesa a tutti i fenomeni della natura anche quelli scoperti dopo Galileo. In particolare Einstein ha esteso il principio di relatività anche al caso di chi si muove con velocità altissima vicina alla velocità della luce. Tutti sperimentiamo il principio di relatività nella vita quotidiana. Quando siamo in treno per esempio e dal finestrino vediamo scorrere un altro treno sul binario accanto non riusciamo a dire se è il nostro treno che si muove oppure se è l'altro. Se però abbiamo un punto di riferimento esterno, per esempio un oggetto fermo sullo sfondo, ci appare subito evidente qual è il treno che si muove. Beh, sembra evidente, ma non è detto che sia vero. Dire che qualcosa si muove, insomma, è sempre un'affermazione relativa. La velocità di un oggetto non è una sua proprietà assoluta. Dipende dal punto di vista di chi osserva il movimento e dai riferimenti usati per misurare la velocità.